Ciao ragazzi, sono appena svegliato, sono le 9.13, sono ancora in vacanza, sono ancora in vacanza e sono solo a casa, c'è tanto il mio parco che è uscito, vediamo che tempo c'è fuori c'è un bel tempo, allora ragazzi, in pieno di oggi, monta il video, lo carico e poi si vedrà, devo mettere un po' a posto casa che è un po' incasinata basta portare il bagno, il casino che c'è anche sul bagno, faccio vedere lo specchio, guardate il casino che c'è non si vede niente perché è tutto uso ancora, dovrò aprire ragazzi, stavo montando il video, lo stavo esportando e sono veramente, veramente affranto da vedere che mancano 27 minuti solo per esportarlo non immagino quanto ci voglia per caricarlo su YouTube, veramente io mi inchino alle persone che fanno video più lunghi e più pesanti di questo questo dura all'incirca 7 minuti, è un po' pesantuccio, ma mi inchino alla gente che ne fa più pesanti forse è l'ora che mi compro un computer fisso, questo forse non supporta più questo tipo di video così pesanti allora ragazzi, dato che sono rimasto solo a casa adesso, dato che non c'è nessuno appunto voglio farvi vedere un po' le cose post Pasqua di qua cosa la Pasqua ha riservato a questa casa, non siete un cavolo, ok guardate quante uova qui dentro, ne abbiamo messe, siccome siamo io e mia sorella comunque ho detto, vabbè dai fateci un uovo, massimo due, giusto così, giusto per tenere la tradizione e ci hanno riempito di uovo, questo è un uovo, qui dentro ce ne sono tre, questo è un altro e questi sono altri, questi qua li devo dare ai miei cuginetti, comunque mi piace questa colomba a me non piace la colomba, non so voi, ma io ho sempre dato la colomba perché ha quel sapore di candito, quel retrogusto di candito che assumo un po' il panettone infatti a me non piace, vi volevo dire, a voi piace la colomba? perché a me no, evidentemente se sta ancora lì non mi piace questi biscotti, ho fatto questi biscotti, sì ok, qua c'era una tortina, vabbè l'abbiamo mangiata erano pieni, non dico una cosa fino a qua c'è la pizza di Pasqua, la pizza di Pasqua che fa mamma, ecco la salata con tipo 8 formaggi nella bomba calorica, vedete qui c'è un pezzo di colomba che sta lì da circa due settimane perché mamma se le compra sempre prima e qua c'è un piccolo che ci ha fatto la nostra amica quando è fuori da qui, è tutto decorato sono molto bene queste uova decorate con lo zucchero, molto meglio di quell'altra che tu le apri e poi dentro c'è una misera cacchietta del tipo questa che c'è scritto grandi sorprese e poi mi ritrovo questo aeroplano che è una cosa piccola così rispetto a un uovo gigantesco allora ragazzi sono le 11 passate e sono qui sdraiato sul divano come potete benissimo vedere prendi i piedi e sto vedendo MEDEMON FAMIGLIA ok adesso pensavo ci fosse un altro film in televisione ma alla fine non l'ho trovato, ora muro tutto se no come mi segnalo un altro video per copyright vi ringrazio per i commenti che ho ricevuto al video, per i pollici in su, per gli iscritti che sono aumentati tantissimo vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento quello che vi pare, tutti i link alle varie pagine le trovate qui sotto e vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per la visione